Avevano messo in piedi un'organizzazione quasi perfetta con un quartier generale in una nota officina per la riparazione delle auto dove avevano accumulato parti di carrozzeria di ogni genere già incidentati. Paraurti, cofani, sportelli e parabrezza bastava sostituire le parti integre con quelle danneggiate per simulare sinistri mai avvenuti. L'attività veniva supportata da rilevi fotografici da sottoporre a riparazioni ultimate ai periti assicurativi. L'organizzazione criminale è stata scoperta e sgominata dai finanziari del comando provinciale di Roma al termine di indagini durate circa un anno. Il gruppo riusciva ad ottenere la liquidazione dei danni dalle compagnie assicurative dopo la denuncia di finti incidenti stradali. Gli indennizi venivano incassati direttamente dal titolare della carrozzeria grazie alla collaborazione di un dipendente della banca, anche lui componente del gruppo. 55 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria di Velletri, di cui 9 per il reatto di truffa, sequestrati terreni, fabbricati, appartamenti, autovetture, quote societari e conti correnti per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro.